Oggi ho saputo che ieri è morta Viesuava Szymborska. Naturalmente Viesuava Szymborska non ha nessun bisogno delle mie parole, non ha bisogno che io ne tessa un elogio funebre. Era comunemente ritenuta uno dei più grandi poeti viventi, è stata insegnata del premio Nobel per la letteratura, ma rimarrà certamente nella storia della letteratura universale. Non ha bisogno di me assolutamente, sono io che nella mia piccolezza ho bisogno di dire qualcosa su uno dei poeti che più ho letto, ho amato e più mi ha influenzato. Viesuava Szymborska aveva una capacità di scrivere veramente sensazionale. Io non ho mai visto in nessun altro poeta, in nessun altro scrittore, quello che lei riusciva a fare. Per quello che può contare, io non sono onnisciente, non ho letto tutti i libri del mondo, ci mancherebbe però, per quel poco che ho letto, lei era unica in qualcosa, perché lei riusciva a parlare delle cose più immense, più immani, più sovrumane, più spaventose, con un'assoluta calma, mantenendo un sorriso dolce, ironico, una compostezza urbana. Non per superficialità, non perché si lasciasse scivolare le grandi cose di dosso, non perché non le affrontasse, no, al contrario, questa è la cosa incredibile, che lei entrava nel cuore del cuore del mistero, dell'assoluto, dell'immane, e invece di tremare aveva un passo quieto, una compostezza, manteneva l'assoluto controllo della sua persona, dei suoi pensieri, dei suoi sentimenti, e soprattutto del suo linguaggio assolutamente cristallino, pacato, limpido, elementare. Lei era in grado di parlare dell'immensità dell'universo sorseggiando il tè. Lei è in grado di comunicare pensieri talmente sottili, talmente impalpabili, talmente sfuggenti, oscuri, che c'erano impossibili non solo da comunicare, ma anche da fermare nella mente, sono cose che è una persona normale, fuggono di mente un minuto dopo che sono arrivate. Lei non solo non se li faceva fuggire, li prendeva, li bloccava, li maneggiava, li fermava, era in grado di scriverli con questa semplicità che vi ho detto, la cosa impalpabile, inafferrabile, lei la afferrava e te la porgeva delicatamente sul palmo della mano con un sorriso. Non c'è bisogno che dica molte altre parole, è meglio lasciar parlare lei e leggo una sua poesia, è un splendido esempio di come lei parlava delle cose più grandi e terribili. In un modo assolutamente unico. La poesia si intitola Sulla morte Senza esagerare Dice Non si intende di scherzi Stelle, ponti, tessitura, miniere, lavoro dei campi, costruzione di navi o cottura di dolci. Quando conversiamo del domani Intromette la sua ultima parola A sproposito Non sa fare neppure ciò Che attiene al suo mestiere Né scavare una fossa Né mettere insieme una bara Né rassettare il disordine che lascia Occupata a uccidere Lo fa in modo maldestro Senza metodo né abilità Come se con ognuno di noi Stesse imparando Vada per i trionfi Ma quante disfatte Colpi a vuoto E tentativi ripetuti da capo A volte le manca la forza Di far cadere una mosca in volo Più d'un bruco La batte in velocità Tutti quei bulbi Baccelli Antenne Pinne Trachè Piumagi nuziali E pelame invernale Testimoniano i ritardi Del suo gravoso lavoro La cattiva volontà non basta E perfino Il nostro aiuto Con guerre E rivoluzioni È almeno finora Insufficiente I cuori battono nelle uova Crescono gli scheletri Dei neonati Dai semi spuntano Le prime due foglioline E spesso Anche grandi alberi All'orizzonte Chi ne afferma L'onnipotenza È lui stesso La prova Vivente Che essa onnipotente Non è Non c'è vita Che almeno per un attimo Non sia stata immortale La morte È sempre in ritardo Su quell'attimo In vano Scuote la maniglia D'una porta invisibile A nessuno Può sottrarre Il tempo raggiunto Il tempo raggiunto Il tempo raggiunto Il tempo raggiunto Il tempo raggiunto